Playout, Sampdoria contro Siviglia, risultato che vede in vantaggio la Sampdoria per 1 a 0 però gol di vantaggio causa ritardo di alcuni membri del Siviglia Comunque si riparte dalle mani di Micillo che serve di Vito sulla corsa tenta il dribbling, si accentra poi, sbaglia il passaggio per Corporente anticipa bene Morvillo, Maisto, se ne va contro Cassese, tenta il tiro non ha visto l'inserimento centrale di Barone si riparte quindi da, ancora una volta dalle mani di Micillo, Corporente indietro per Di Vito Di Vito se ne va ancora centralmente, allarga per Cassese Cassese avanza, tenta il passaggio, buona la sponda di Mastro Giovanni, il tiro di Di Vito finisce sul fondo l'oggi portiere Basile, li mette in avanti, poi l'Izzadro, ancora per Corporente basese